Questa settimana facciamo il Salmo 64, che dice così Ascolta, o Dio, la voce del mio lamento, dal terrore del nemico proteggi la mia vita. Tienimi lontano dal complotto dei malvagi, dal tumulto di chi opera il male. Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare per colpire di nascosto l'innocente. Lo colpiscono all'improvviso e non hanno timore. Questo Salmo è più attuale che mai, perché al centro del discorso ci sta affilano la loro lingua come spada e scagliano come frecce parole amare. Attorno a questo ruota il Salmo. È una realtà che tutti noi abbiamo vissuto. come la lingua, le parole amare, colpiscono più che una spada affilata. È una verità profonda. La parola ha un valore enorme. Non è vero che uno può dire qualunque cosa. Ma ogni parola incide, che sia buona o che sia cattiva. Non a caso, a fronte delle parole cattive, che feriscono e possono uccidere profondamente l'uomo, Dio contrappone la sua parola, il suo verbo, Gesù. Infatti, nel versetto 7 c'è scritto così. Tramano delitti, attuano le trame che hanno ordito. L'intimo dell'uomo e il suo cuore è un abisso. Fa vedere come le parole cattive feriscono l'uomo e questa parola cattiva sorge da un abisso, dall'abisso del cuore dell'uomo. È impressionante come l'abisso nella Bibbia viene citato all'inizio, nel libro della Genesi, nella creazione, dove viene detto che le tenebre ricoprivano l'abisso e da queste tenebre, da questo nulla che ha preceduto la creazione, Dio crea, Dio fa. E Dio disse, vedete la parola, e Dio disse, e sia la luce, e la luce fu. La parola di Dio è creante. San Paolo dirà pure, colui che ha detto sia la luce, e la luce fu, così risplende nell'intimo dei nostri cuori la parola di Dio, il verbo, che è una luce creante. La sua parola spirituale, la parola di Cristo, il verbo, è creante. Prima c'è stata la creazione materiale, adesso invece c'è la creazione dell'uomo nuovo, attraverso Gesù Cristo. È una luce che crea e ricrea. Quindi da un lato fa vedere delle realtà crudeli, tremende, le parole. Oggi più che mai, non solo l'abbiamo sicuramente sperimentato noi, quando hanno detto delle cose inciuste su di noi, cattive su di noi, quando hanno preparato un terreno malvagio sparlando di noi. E quanto questo ci ha ferito, ci ha ferito profondamente. E quante relazioni si sfasciano perché uno ha parlato, ha detto una cosa in più che non doveva dire, la parola non si può più rimangiare, è stata detta. E se c'è la forza della forza del perdono di Cristo, si può superare. Ma normalmente questo non succede. Rimane impressa nella memoria quella parola lì, tu hai detto questo. E poi ti accorgi che sono passati dieci anni e ancora quella parola è scritta nel tacquino di quella persona, è come se si registrasse tutto e si conservasse dentro e la vita diventa veramente infelice. Quanto danno fa la parola? E lo vediamo anche tra i giovani. Oggi si parla molto del bullismo. Ma che cosa è il bullismo se non massacrare una persona nel più profondo della propria mente, dei propri pensieri, della propria personalità? Se già questo fa soffrire una persona adulta che è ben temprata, immaginate voi un adolescente che è entranto nei massi media perché adesso il telefonino è quasi una seconda vita, una seconda mente, ci si confronta continuamente e un adolescente demolita dai compagni, attaccata con parole cattive, si distrugge, alcuni si distruggono psicologicamente, altri invece si distruggono proprio fisicamente, ma io so di tanti casi, tanti casi che conoscono, sto qui all'elencarveli, adolescenti che si ammazzano perché sono state dette parole cattive su di quella persona lì attraverso i social e quello si distrugge. Questo mi fa pensare la responsabilità che abbiamo noi. Se la parola cattiva distrugge, la parola buona edifica. Una parola buona rinsalda le amicizie, una parola buona tiene saldo un rapporto, una parola buona può dare un tocco di dolcezza a quello che poteva essere un muro, lo demolisce. Quanti matrimoni potrebbero salvarsi dicendo una parola buona, una parola conciliante invece di una parola cattiva che spinge l'altro a dirne una ancora più cattiva fino ad arrivare a cose assurde. Quindi questo salmo è prezioso e lo dobbiamo conservare nel cuore e nella mente perché ha un potere enorme, ci fa vedere qual è la strada della pace, qual è la strada dell'amore, ci fa vedere come Dio si è fatto parola ed è una parola meravigliosa. Proprio a proposito del versetto 7 che dice appunto che il cuore dell'uomo è un abisso nella traduzione greca, questa è la traduzione latina perché non è facile tradurre la Bibbia dall'originale perché come chi ha studiato il latino fai una versione ma per tradurlo in italiano tu hai diverse opzioni di traduzione. Nella traduzione greca c'è scritto così, è una cosa strana però è significativa. Dice quando riguarda il versetto 7 verrà un uomo dal cuore profondo e sarà esaltato da Dio. Questa traduzione greca mi ha fatto pensare all'uomo dal cuore profondo che è appunto Gesù, la luce che risplende dall'abisso. Il cuore dell'uomo dice nella traduzione latina è un abisso ma questa parola dice che dall'abisso non solo è stata fatta la creazione materiale, l'universo ma proprio dall'abisso, dal nulla, del cuore umano che è capace di dire cose cattivissime che vengono dal nulla. Ecco che appare l'uomo, l'uomo dal cuore profondo, Gesù, Dio incarnato che diventa parola di salvezza per te e per ogni uomo, parola di consolazione nella sofferenza. Questo Dio che attraverso Gesù e la sua parola ti abbraccia, ti ama, ti fa risollevare da quello che spesso le parole vogliono distruggere dall'abisso da cui provengono. Gesù ti salva, ti solleva, ti ama, c'è speranza per noi. Grazie Signore, grazie, oggi è un buongiorno.